Giulia Pintavalle, premio e simpatia. Ieri abbiamo sentito Antonietta Di Martino. Per te cosa significa questo riconoscimento? Come già ho detto spesso, fair play nel judo perché sin da piccoli edicano bambini a rispettare sia le regole che gli avversari. Il rispetto delle regole e dell'avversario è il massimo e oggi serve molto ai ragazzi di oggi. Hai avuto la felice novella di un bambino. Come concili lo sport con la maternità? Al momento sono in maternità e mi sto dedicando sempre a lui. Poi piano piano cercherò di riavvicinarmi al mio sport e magari portare anche lui per fargli capire se da un piccolo cosa ho fatto e magari un giorno mi seguirà anche lui. Il rispetto delle regole e dell'avversario è il rispetto delle regole.